Da venerdì 5 aprile torna Napoli Piano City, la sesta edizione della rassegna musicale dedicata al pianoforte. Tre giornate fino a domenica 7 di concerti, eventi e appuntamenti che coinvolgono luoghi pubblici e i salotti della città. Si parte venerdì sera alle 21 con il concerto in piazza Plebiscito a cura di Patrizio Marrone e l'esibizione dei giovani musicisti dell'orchestra regionale di pianoforti dei licei musicali. Un'edizione, quella di quest'anno, che si preannuncia ancora più ricca con 250 eventi gratuiti, 700 pianisti coinvolti, 60 house concert e 55 location sparse per la città. L'inaugurazione con 21 pianoforti in concerto, che quest'anno sarà un overdue, è di fondamentale importanza e si terrà sotto i portici di piazza Plebiscito. Novità di quest'anno sarà l'intervento di un'ensambla di studenti dei licei musicali che interverranno prima dell'inaugurazione e inoltre la proiezione di un artista, Davide Cantone, di un'opera che si chiama Soul, che verrà proiettata su piazza Plebiscito. L'evento, nato da un'idea del pianista tedesco Andrea Schern, è promosso dall'assessorato alla cultura e turismo del comune con l'associazione Napoli Piano e propone un calendario vastissimo di appuntamenti in programma al Conservatorio, al Maschio Angioino, nei più bei siti storici e museali e concerti nelle abitazioni dei pianisti. Credo che ormai Piano City sia una delle più belle manifestazioni musicali d'Europa e credo che questo dipenda dal fatto che il format che ovviamente si fa in altre due città molto importanti come Berlino e come Milano però ha trovato un modo per declinarsi a Napoli che ne esaltasse alcune caratteristiche straordinarie. Quindi la musica che fa identità e rivoluzione, che abbatte tutti i muri, che cancella le barriere, che fa dialogare le persone. Per usare un verso di Eri De Luca attraverso questo modo di essere Napoli cambia anche il nome dell'universo e si chiama diverso. Esibizioni al piano di ogni genere musicale sono previste anche all'aeroporto, in ospedale e nei più importanti alberghi cittadini.